segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te dovreste fare una battaglia per la gente siciliana perché arrivare in sicilia da roma per da milano si devono pagare 400 500 erico i biglietti aerei ed è una vera vergogna e la politica siciliana forse dovrebbe fare qualcosa anziché stare in silenzio vi saluto perché devo raccogliere